Ma indicazioni positive sotto tutti i punti di vista, i ragazzi dopo una settimana di allenamenti intensi, di doppi, avevano bisogno di approcciarsi alla gara, avevano bisogno di conoscersi, il processo di inserimento e di conoscenza del gruppo sta avvenendo gradualmente e sono molto contento di questo. Mi sembra bene, mi sembra che si siano subito integrati bene, non soltanto in campo ma anche fuori dal campo, su questo noi ci teniamo molto perché vogliamo inserire in questo gruppo sano gente altrettanto sana e mi sembra che sotto questo punto di vista la società si sia mossa abbastanza bene, quindi sono contento per il valore umano e morale dei ragazzi che abbiamo preso. No, non cambierà, noi ci alleneremo forte cercando anche di farsi trovare pronti per la partita di Coppa Italia perché ci teniamo.